Il sottosuolo di Bitonto pullula di tesori archeologici preziosi, non distribuiti però in maniera uniforme su tutto il territorio. Il quadro che emerge dall'intervista di Punto TV al professor Nicola Pice sulle ricchezze archeologiche del sottosuolo bitontino offre importanti spunti di studio e riflessione. Archeologicamente parlando, Bitonto è una città importante. Il fatto stesso è che verso la fine dell'Ottocento il sovrintendente agli scavi di Pompeino, il sovrintendente di Napoli, venne da Napoli a Palombaio a visitare le case di alcune famiglie nobili che lì risiedevano, che avevano all'interno delle loro case reperti rinvenuti da poco a Palombaio, nella cosiddetta contrada malnome. E l'affermazione dello stesso sovrintendente che dopo aver visto quei vassi esclamò dicendo la storia archeologica di questo paese sarà molto importante, dice già da tantissimi anni quello che è l'interesse che il sottosuolo conserva ancora e che in alcune parti naturalmente è stato anche svelato. Lo spunto è stato lo scavo effettuato dall'acquedotto pugliese in Piazza Moro la scorsa settimana, nel corso del quale alcune antiche basole di pietra sono state irrecuperabilmente danneggiate, un cantiere che non avrebbe rispettato le prescrizioni a partire dalla mancata presenza di un funzionario della sovrintendenza, simile a quello aperto in un mese fa in Piazza Caduti del Terrorismo, dove, come confermato dallo stesso professor Pice, il rischio di imbattersi in strutture molto antiche era tutt'altro che remoto. Il territorio di Bitonto ha visto insediamenti sulle alture di questo territorio e due in maniera particolare. Quello che è all'altezza della parrocchia, ex parrocchia di Sant'Andrea, ecco la zona più antica di Bitonto è proprio quella, con un'estensione verso via Plini il Vecchio, Mancafalapposta, via Plini il Vecchio, abbiamo trovato l'insediamento più antico dei tanti insediamenti trovati a Bitonto, e cioè praticamente lungo un asse viario, perché le zone archeologiche importanti sono lì dove, naturalmente, gli insediamenti potevano determinarsi in prossimità di una rete viaria, quale? Via Traian, in questo caso. L'altra parte alta su cui si insedia il Populus Butuntinus è esattamente la parte alta della città, ovvero San Francesco della Scarpa. Diversa invece la questione per quanto riguarda il lato del centro storico di Bitonto che volge verso la Marina di Santo Spirito. Archeologicamente parlando, la zona di Porta Robustina, Via Rossini, sono importanti perché sono a ridosso della rete viaria di Via Traian, e lì, infatti, i diversi rinvenimenti ancora oggi sono tanti. Ma quest'altra zona che va verso la Marina, come si diceva, quella è, dal punto di vista archeologico, poco interessante. Può essere interessante il rinvenimento, diciamo, delle lastre che sono state, naturalmente, a un certo punto, in conseguenza anche del modernismo, coperte da strati di bitume.